Ciao a tutti, sono Marika Tovo, coro per il team KTM Protect Electro System, nella disciplina della mountain bike. Nel 2020 sono riuscita a vincere la maglia tricolore ai campionati italiani, una giornata particolarmente emozionante per me dopo i due infortuni del 2019. Ad ottobre ho vestito la maglia della nazionale ai campionati del mondo in Austria, dove nel team Raleigh abbiamo ottenuto un secondo posto. Pochi giorni dopo si sono ottenuti i campionati europei in cui abbiamo vinto il team Raleigh e nella gara individuale ho ottenuto il secondo posto. Ringrazio semplicemente la federazione ciclistica italiana perché in questi duri mesi non ci ha fatto mancare nulla.